Anche a lui chiediamo quali sono state le impressioni che ha riportato da questo viaggio Dove le piedi ci hanno? Incredibile! 60 delle piedi! Ma a Santa Teresa le dico! Così, delle fette così lunghe! Tremendo, tremendo, tremendo! Infatti su Marte il fatto che inciampano, se inciampa sempre, su Marte se inciampa sempre è una cosa incredibile! Infatti il fatto che fa... me mi scusi, me scusi, me scusi! Cioè loro siccome usano, dicono di niente, di niente, di niente! Cioè sono molto gentili!